Fonsega e tu duri un po' mi sai quella squadretta e te l'hanno dato il tempo supplementare a Parma Fonsega ma allora io ho visto ho visto Milan-Torino e Parma-Milan e allora se in Milan è questo qui è vero il calcio d'agosto inizio ma in Milan dietro è una gruviera in Milan prende dalle 7 alle 8 occasioni da gol a partita questa non era ragazzi Parma-Milan ma era Real Madrid-Anderlecht con quelle magliettine viola lì in Milan è una squadretta in Milan è una squadretta se quell'allenatore non sa cosa voglia dire la fase difensiva tra l'altro tatticamente è un allenatore anche abbastanza potabile ma fase difensiva nonostante Pavlovich lì dietro gli abbia salvato 2-3 gol perché comunque io alla fine del primo tempo dove il Parma meritava di stare a meno 2-3 a 0 ho contato 8 occasioni da gol per il Parma è vero attraversa del Milan occasioni anche per il Milan ma il Parma dà una lezione di calcio a Milan stravince meritatamente e se questo è Milan ragazzi possiamo giocare in ciabatti contro di loro ciao Milan 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 ha 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 Grazie a tutti.